Sono i tuoi ora, e tu sei bloccato a loro. Ok, va bene, questi sono gli edifici presenti nella città, ok? Questa è la nostra lista di hero che potete vedere, abbiamo Reynold e Dismas, livello 1, livello 1 di armi, livello 1 di armor, livelli per armor e di armor attacchi non me lo ricordo, penso siano 5 se non sbaglio. Andiamo a vedere le varie zone, il cimitero. Nel cimitero vedi gli eroi che sono caduti, quando sono caduti, a che livello e che mob li ha uccisi. Le memorie del Lanchester sono semplicemente il collect dei vari video, quindi House of Ruin, Old Road, eccetera, 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 ok? Sono le parti in cui lo speaker parla e racconta parti delle storie, praticamente la raccolta dei vari video, delle varie informazioni che vengono fuori durante il gioco. Abbiamo diversi edifici ancora bloccati, l'abbazia, la taverna, il sanitarium, dove sta Lorenzino, il blacksmith, la gilda. Nella gilda si appano le skill, nel blacksmith si appano le armi e le armature, nel sanitarium si tolgono le sfighe, queste, i quirks negativi, o si loccano i quirks positivi, o si tolgono i quirks positivi. Nella taverna si beve e invece nel bordello si tromba. Nello stage coach possiamo reclutare nuovi eroi, questi quanti gold abbiamo, questi sono quanti heirlooms, che sono le reliquie di famiglia, se non sbaglio, che sono quelle con cui sblocchi i vari edifici, che adesso vi farò vedere. Questo è per fare un cambio, ok? Poi tradarli per praticamente dare dentro due teste di pietra, due teste di cane, per un ritratto di palobby. E andiamo qua sullo stage coach. Andiamo sullo stage coach. Ho capito, zio Luciano, io me ne ho rotti i goglioni, cioè nel senso io ho preso, mi sono messo a giocare al gioco, tutto, tu sei lì, che mi mandi la lettra, poi ti spari con la pistola, no? Che me ne ho rotti i goglioni, con la sua storia che ti spari le cervelle in salotto, poi mi tocca a me pulire, sono figa, sono veramente 125 ore di gioco, sacco di volte che ho dovuto pulire la cucina e mi sono rotto veramente i goglioni. E in più non soltanto prendi e fai l'uomo di merda che te ne vai al Darkest Dungeon, che mi fai il barbatrucco, mi pugnale alle spalle, ma come eri uno di famiglia, eri uno bravo, eri un amico, eri sei il tuo più caro più tuo amico, bastardo. E no, in più devi fare pure da speaker ogni volta che faccio qualcosa, è proprio un gran rompicoglione. Ad ogni modo, questi sono gli eroi che possono essere reclutati, più due nuovi, ok? E nello stagecoach possiamo reclutare degli eroi, in questo caso abbiamo il Plague Doctor e la Vestale, va bene? E qua c'è l'upgrade, si può upgradare. Questo dice, aumenta il numero di eroi disponibili ogni volta che andiamo allo stagecoach, alla fine di una missione vengono refreshati da 2 a 3. Aumenta il numero degli eroi disponibili fino a 13, ok? Con un massimo di 29. E poi, la possibilità di trovare con una percentuale intorno al 21% al livello più alto, se non sbaglio, eroi di livello fino a livello 4. Adesso non vorrei dire una cazzata, comunque, l'esperienza recluiti ti serve per non trovare sempre solo eroi di livello 0, ma ti permette di trovare eroi di livello 1, 2, 3, 4. Anche il mio PG preferito è il Plague Doctor. Quindi in questo caso abbiamo soltanto loro due, lo stagecoach è sicuramente uno dei primi, se non il primissimo edificio che va sbloccato in modo abbastanza solido. Quindi faremo un bel 3 più 4 e sbloccheremo questo. E poi faremo un bel... Abbiamo capito, va bene. E poi possiamo anche ampliare la rosa fino a 13. In questo momento siamo a 2 di 10. Ecco fatto. Ci prendiamo la vestale. E ci prendiamo il Plague Doctor. Chiaramente mi dice upgrade allo stagecoach eccetera eccetera eccetera, puoi aumentare il numero di ore disponibili, l'ho appena detto, non c'è bisogno che me lo fai ripetere. Ad ogni modo dobbiamo imbarcarci e non è che uno si imbarca... Non è che uno si imbarca come il... Non è che uno si imbarca, lo so che è sabato sera che voi volete imbarcare ma... Ad ogni modo c'è da fare la prima quest. Insomma non è che si può fare molto. Abbiamo due eroi di livello 1, due eroi di livello 0. Si possono ordinare per livello, per stress, possiamo ordinarli per classe e per attività. Non c'è molto altro che possiamo fare. Questo è l'inventario dei Trinket che possono essere equipaggiati direttamente sul PG. Benissimo, dei Trinket non abbiamo. Sul libro ci dice Accuracy. Base chance to eat is Accuracy minus the opponent dodge. Quello che vi stavo dicendo, Affliction. Insomma questo è il glossario. Molto lungo, se volete ve lo leggete, altrimenti lasciate stare. Andiamo sopra Embark e andiamo a vedere che c'è... Ma stai sempre a interrompermi zio Luciano. Mai rotti i coglioni, guarda che disinstallo il gioco. Devi stare zitto, merda. Ad ogni modo, questo è la zona, c'è nel senso la schermata in cui si sceglie in che zona fare il dungeon. Ok? E in che modo comporre il party. Abbiamo le rovine. Warrens bloccata, Wield bloccata, Colv bloccata, Darkest Dungeon. Possiamo andarci, però poi impazziscono, poi viene troppo difficile. E Cartyard, ok? Che è una nuova zona che io non conosco. Quello dove ci stanno i mignottoni, quelle amiche di zio Luciano, te lo dico io. Possiamo fare così e così, togliere tutti i personaggi dalla roster e vedere che abbiamo soltanto una quest disponibile. Noi abbiamo il nostro tank che ha paura degli undead, quindi prende il 20% di stress contro gli anoli. È una cosa molto, molto, molto brutta. Molto brutta. È particolarmente sensibile agli attacchi che provocano stress. Cos'è lo stress? Vedete che questo eroe ha un quadratino bianco, mentre gli altri non ne hanno. Lo stress va da 0 a 100, ok? Quando lo stress arriva a 100, è chiaramente andare a fare avventurarsi in questi posti di merda, ok? Nelle rovine, nella palude, nel covo, ti potevi fare i cazzi tua. Poi se ne stavi a casa con baghezzo, lo accarezzavi, stavi tranquillo. E invece no, ti devi avventurare nelle rovine. Quindi quando ti avventuri nei dungeon, aumenta il livello di stress dei personaggi. Quando il personaggio raggiunge il centro di stress, tira, fa un tiro di dadi a random, per cui gli può avvenire un tratto, che si chiama affliction, un'afflizione che può essere positiva o negativa, che dà dei bonus positivi molto, molto forti e dei bonus negativi attettanto potenti. Il livello di stress non si ferma al 100, il livello di stress può arrivare fino a 200. Quando il livello di stress arriva a 200 per un personaggio, quello muore. Basta, muore, hai capito? Non gli viene la colica, non gli viene la diarrea. Muore, basta, muore. Ehi, troppo stressato. Quindi facciamo la prima quest, questa è proprio una run semplice. Abbiamo il problema che il nostro tank ha più 20% stress contro anoli. Quindi significa che se un nemico gli fa un attacco che gli provoca il 10 di stress, ok? A posto di prendere 10 di stress, ne prenderà 12. In questo momento noi siamo a 17. 16 di stress su 200, ok? Non possiamo modificare le skill. Andiamo a vedere i nuovi due eroi che ci han dato. Meno 3% critico con melee skill non ci interessa, va bene? Perché comunque bene o male è un range. Obsessed with clean, linea S. Non so cosa sia. C'ha Anoli Slayer, più 10 accuracy contro anoli, più 3% critico contro anoli. Molto, molto forte. Meno 100% food consumer if stress above 50. Non ci interessa, è un queer che è abbastanza marginale. Le sue skill sono judgment. Può farla nelle ultime due posizioni, colpisce 4 minion. Accurasi base 80. Range, damage modifier, meno 20%. Quindi può farla a 4-9 danni, meno 20%. Possibilità di critico 5%. Se l'avversario è un undead, avrà il 5% più 3, 8%. E si cura di 3 HP. Una skill forte. Dazzling light, 80 di accuracy. Damage modifier, meno 75. Quindi fai le carezze al mob. Può stunnare al 100% di base. Aumenta la torcia di più 6. Che significa che non è che mette dentro altre 6 cime da impastare. La torcia... Stai sempre a pensare a quelle torce lì. No, la torcia è quella che fa luce, non quella che ti imbrasi. Divine Grace è un heal che può fare nelle ultime due posizioni. Lo può fare su qualsiasi personaggio. Cura dal 3 al 5. E poi c'ha un illumination. Che è un range attack. Accurasi base 80. Damage modifier, metà del danno. Aumenta la torcia di 5. Debuffa al target e li abbassa di 20 il dodge. Significa che praticamente l'avversario piglierà tutta l'accurasi in testa. E molto probabilmente i colpi entreranno. Ok, figo. Figo. Di skill, come vedete, su alcuni eroi, alcune sono loccate. Possono essere sbloccate nell'edificio che si chiama Gilda, che abbiamo visto prima. Le skill da campo le vedremo magari più avanti in un'altra live. In questo momento non c'è bisogno. Cosa si può aggiungere? Beh, si può aggiungere che chiaramente, in base al modo in cui tu componi le skill del personaggio, scegli anche una posizione, in questo caso la preferred position della mia vestale è il terzo slot. Ne possiamo fare cliccare con così e togliere tutte le skill. Ok? E non giochiamo più con un cazzo. Disinstalliamo il gioco, andiamo a dormire e ce ne futtiamo. No. Possiamo prendere, possiamo vedere che, se clicchiamo qua, ci indica che questa skill è utilizzata nelle ultime due posizioni e tocca ai primi tre. Mettiamo, attiviamo anche questa. Questa qua prende tutte e quattro le posizioni ed è soltanto nelle ultime due. Questa è sempre nelle ultime due posizioni e può curare qualsiasi personaggio. Ma l'illumination non funziona dall'ultima posizione, come potete vedere lì, vedete? Vedete qua sotto i pallini? I pallini indicano la posizione del party. Non può essere giocata questa skill se siamo di quarta, ma può essere giocata se siamo di terza. Cliccandoci sopra vedete che questo pallino diventerà completamente giallo, indicandoci che la sua posizione preferita è di gran lunga la terza. Bene. Andiamo a vedere il Plague Doctor. Un gran bel personaggio. Un gran bel personaggio. Plague Doctor è un backliner, dotta, ha debuff, toglie tipo bleed e poison ai propri eroi. E c'è anche un attacco mele decente che noi non potremmo fare perché l'incision si può fare soltanto di terza. In ogni modo c'ha il Noxus Blast, accuracy base 95, damage modifier, meno 80%, quindi non fa praticamente danno. Al critico ha un 2%, quindi c'è al 2.5 più 2, 4.5. Al Blight 100% di base, che viene poi sommato, nel senso fatto il calcolo, sottraendo la resistenza del mob avversario, fa 4 punti di danno per 3 round. Molto, 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 molto forte. Abbiamo il Plague Granade, colpisce le ultime due posizioni, accuracy base 95, il damage modifier, meno 90%, quindi non fa danno, ma attacca al Blight, che sarebbe veleno per 3 round. 4 punti ad entrambi i due backliner dell'avversario. Blinding Gas è forse la skill più forte per quello che riguarda il Plague Doctor, che è uno stun sui due backliner dell'avversario, con un damage modifier almeno 100%, quindi il Blinding Gas non fa danno, ma una percentuale di stun molto alta. In questo caso abbiamo l'incision, che non potremmo usare, poi abbiamo l'embolding Bappers, che buffa un personaggio, a nostra scelta, del 25% al danno e gli aumenta la speed più 3, cercando di farlo, praticamente, agire più velocemente. Natural Swing, più 5 accuracy, gran bel attributo per il PG. E poi Bloodstirsty, quindi è affascinato con ferite, torture e ingiuri, insomma, è un po' un tizio svitato, non è completamente a posto. Queste sono le sue resistenze, il danno critico, accuracy modifier, più 5, speed, protezione 0%, dodge 5, massimo HP 22. Siamo pronti per imbarcarci, come prima posizione chiaramente mettiamo il Tank, In seconda posizione mettiamo l'Highway Man, in terza la Vestale e in quarta metteremo il nostro Plug Doctor. Qua vedete che viene fuori la scritta Red Hook, ci indica che praticamente il team ha un nome. Questa scritta che viene fuori, Red Hook, non dà nessun buff extra e questo secondo me è un limite del gioco, perché? Perché secondo me i team con la composition, con la scritta tipo Mad Gamble, i Reietti, Red Hook, dovrebbero secondo me dare un piccolo buffro per invogliarti a giocare delle composition standard. Oltretutto queste composition con la scritta penso che siano oltre i 100, ci sono tantissimi modi in cui puoi compilare i team. Andiamo a fare la quest, è una quest breve, apprendista livello 1, il nostro goal è esplorare il 90% delle stanze, Reward sono 3000 di gold, 4 creste, quindi 4 di questi artefatti, queste reliquie, questi... Non so che cazzo è, ma rotti goioli, ma che nome di merda è Crest, ma che devi fare la cresta come il persiano? E poi ci danno questo trinket, che è comune, 10% all'HP meno 1 di speed. Bello, bella merda. Andiamo a raccogliere le provvigioni. Avremo... Praticamente noi prima di partire per una missione vogliamo chiaramente prendere... Dei suppellettri, non lo so, degli item da portarci dietro, principalmente vogliamo prendere torce e cibo, perché chiaramente i personaggi devono mangiare, e poi la duce va mantenuta alta se non si vuole essere colpiti di sorpresa. Un livello basso della torcia ci porta a fare più danno, aumentare il nostro livello di critico, ma aumenta la possibilità di essere colpiti di sorpresa dagli avversari, viceversa, un alto livello di torcia diminuisce il valore dei loot ottenuti, aumenta la possibilità di colpire gli avversari di sorpresa, e io preferisco giocare con la torcia alta, diminuendo praticamente quanto guadagno, ma avendo più sicurezza e mantenendo il team in vita più a lungo, ok? Avendo noi un Plag Doctor nel team, partiamo con un Anti-Venom, e avendo noi nel team, penso, il Crusader, non la Vestale, avremo un Holy Water extra. Cosa prenderemo? È una run breve, possiamo prendere 8 di cibo, fino a 12 per stack, ok? Prendiamo 12 di cibo. Le pale servono per abbattere i muri non soltanto, servono anche per attivare dei curio, ok? Noi stiamo andando nelle rovine. Nelle rovine ci serve l'acqua santa, le erbe medicinali, una possiamo prenderla, in teoria. L'acqua santa serve molto per curare lo stress. Con l'acqua santa ci facciamo veramente tante, tante, tante belle cose. Con la chiave anche ci potrebbe servire per i sarcofagi, ok? Ma prenderei un'altra acqua santa. Laudano. Il Laudano, raga, io non ho ancora capito bene a cosa serve. Serve per curare l'orrore, quando i personaggi prendono come Malus l'orrore. Devo andare a studiarmelo bene, perché è un nuovo oggetto. È un nuovo oggetto che mi devo andare a studiare. Andiamo a vedere il Laudano cosa fa. Serve per curare l'orrore. L'orrore, in teoria, non so se ci sono mob che ci possono attaccare l'orrore in questa run. Quindi io non lo prenderei. Oltretutto sta a 100 di gold, è abbastanza caro. Non mi attiva i curio. Abbiamo due acqua e santa, voglio fare le cose fatte bene. La pala ci potrebbe servire nelle rovine per fare cos'altro. Beh, chiaramente abbiamo bisogno delle torce. La run è breve. 8 dovrebbero bastarci. Abbiamo un'erbetta. Abbiamo l'acqua santa. Abbiamo 1, 2, 3. Cura, bla bla bla. Ok, per rimuovere i quirk sull'altare. Noi abbiamo bisogno dell'acqua santa che cura un negative quirk. Ma direi che siamo a posto così. Non voglio spendere veramente troppo. Una pala dovrebbe bastarci. Facciamola breve. Tagliamo la testa al tor e imbarchiamoci. Così va bene. È una buona composition, dai. Ok. Bello che hanno aggiunto la schermata d'ingresso nei vari dungeon. Quindi questa prima non c'era. Quando ho giocato fino a ieri, cioè nel suo ultimo tempo che ho giocato, non c'era mai stata questa schermata. No, l'ingresso del dungeon. Qua noi vediamo la mappa. La sposto bene. Così la vedete tutta. Noi dobbiamo fare il 90% delle stanze. Quindi un percorso di questo tipo potrebbe andare bene. In base al livello di scouting dei personaggi, zone della mappa possono essere rivelate. Chiaramente se noi troviamo una mappa del dungeon, tutte le aree vengono rivelate. Noi possiamo vedere che tipo di encounter troveremo. Alcune stanze hanno i tesori, alcune stanze hanno gli elite, eccetera, eccetera, eccetera. Entriamo. Vediamo cosa succede. Ah, venti di stress, venti di stress. Perché venti di stress e venti di stress? Ma cos'è sto cito di merda? Perché? Ma vaffanculo, eravate a zero. Ma cos'è sto cinema della merda? Ma va a cagare. Ma va a cagare, va. Andiamo. Torcia. La usiamo subito. Gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. Pink. Due cazzettini. Due cazzettini. I cazzettini fanno ridere. Sono due bone rubble, dodge zero, speed uno. Quindi non hanno praticamente modifier sui nostri attacchi. La nostra cura si itta piena. Significa che tutti i nostri personaggi dal 90% in poi cappano la cura si. Speed uno attaccano sempre praticamente per ultimi. Resistenza allo stun, al blight 10%. Resistenza al bleed ovviamente 200% perché? Perché come vedete vedere non hanno carne addosso. Quindi non è che possono prendere e sanguinare. Debuff 15%, move 10. Il primo ad attaccare in rotazione è la bestale. La bestale ha un dazzling light. Che fa il 70% di damage modifier in meno. Quindi significa che noi facciamo 4-9 meno 70%. Quindi significa che se noi facessimo... Se noi tirassimo col dado, che ne so, un 6, faremmo 2 danni più stun. Ok? Mi piace stunnare. Non ho bisogno di curare nessuno. Quindi la mia apertura è uno stun sul backliner. Entra il critico, bene. Il critico, i critici hanno la capacità anche, alcune volte a random, diminuire il livello di stress dei personaggi. Siamo passati dal 20 a 16 qua e dal 20 al 19 qua, ok? L'area più difficile per me è quella con i maiali? No, quella con i maiali io mi trovo proprio buono, invece. Possiamo fare direttamente un open vein sulle prime due posizioni. Lo stun non è entrato. Ha resistito, oppo. Io direi di spingere tutto il danno su questo personaggio, in modo tale da subire un solo attacco. Sono 5-9 danni. Dovrebbe one-shotare. Sempre dovrebbe killare questo personaggio. 7 danni da 5-9. Bene. Quando noi killiamo un avversario rimane il cadavere a terra. Il cadavere a terra può essere rimosso attaccandolo e chiaramente influenza le nostre skill. Possiamo dare un buff con questo personaggio al nostro tank che deve ancora attaccare. Questo buff gli dà il 25% di speed e il 25% al danno e 3% di speed. No, annusati un po' sta merda. Quindi abbiamo il 25% al danno e 3% di speed. Clicchiamo col destro. Il danno è diventato dal 6 a 12% a 9,17% perché il gioco è fatto bene. Il gioco comunque è fatto bene, quindi ci dice che l'arma di base fa 6-12 danni. Abbiamo il 25% di danno in più alla skill. Abbiamo il 10% in più grazie al Quirk, Warrior of Light. Se la torcia è sopra il 75% fa il 10% di danno in più. E in più abbiamo questo attacco. 85% di accuracy base, ma il 15% di danno in più su Anoli. Quindi al posto di fare 9,17% questo attacco farà 9,18%. Apriamo il chest. Lo apriamo con lui. Perché lo apriamo con lui? Perché ha il 50% sulle trappole di non attivarle. Lui ha il 20%, lei ha il 10% e lui ha il 20%. Quindi il personaggio migliore con cui aprire i chest è sicuramente il nostro Agui Man. Una pala, benissimo. Due razioni di cibo, bene. 1000 gold, molto bene. L'inventario è molto piccolo in questo gioco, ahimè. Scouting. C'è un muro. C'è un combattimento e una stanza vuota. Andiamo avanti. Il muro deve essere abbattuto con la pala. Se non abbatti il muro con la pala, tutti i personaggi del team subiscono stress. Quindi puoi utilizzare le mani per abbattere il muro in caso tu non abbia pali. E in quel caso tutti i personaggi subiranno un bel po' di stress. Penso 20 punti a testa. Una roba di questo tipo. Noi chiaramente useremo la pala e non subiremo danno da stress. Andiamo un po' avanti. La nostra torcia all'82. Possiamo cliccarci sopra. Riportarla al 100. Inca. Eldrick push. Resiste il push. Praticamente gli ha fatto un danno. Ha provato a spingere nell'ultima posizione. Questo è il DPS del team avversario. Noi vogliamo uccidere subito questo personaggio. Perché? Perché è il personaggio che ci può fare gli attacchi che aumentano lo stress. A noi non imparessa se perdiamo punti vita. A noi ci interessa mantenere il livello di stress degli eroi basso. Per poterli utilizzare nella prossima run. Nella rotazione successiva. C'è la possibilità di killare il backliner. O è meglio killare il DPS. 4-8 danni. Io ci credo. Attacchiamo un bel plug qua. Dottiamo. Ed è morto. Adesso proviamo a stunnare l'ultimo personaggio che deve attaccare della loro rotazione. Perché vedete che ha ancora un'azione rimanente. Quindi vogliamo fare uno stun qua. Bloccarlo. Fargli saltare il turno e poi ricominciare la nostra rotazione. E poi dobbiamo applicare tanto danno su questo DPS. Ma come? Ma avevamo detto che eri terribile. Ma avevamo detto che il gioco era difficile. Che adesso l'hanno patchato. Ma com'è che invece le run sono sempre perfette quando gioca all'anziano. Un'altra rotazione è perfetta. Cura. Cura. In modo corretto. E' figo. E' figo. Poi se lo gioco io è ancora più bello. Se metto in i critici ci sta particolarmente dentro. Andiamo sopra o andiamo sotto? Raga. Dove vi piace andare? Sopra o sotto? Di qua o di qua? Questa stanza secondo me è un tesoro. Ma c'è un inc un po' complicato. La stanza sotto a destra secondo me non ha nulla. Sopra. Va bene. Andiamo sopra. Se deve rompipalle però raga. Trappola. 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 No. Va bene. Come voleva si dimostrare c'era un chest d'oro e mob abbastanza arrabbiati. Ok. Questo è un DPS. Questo è un tank. Questo è l'add che buffa e debuffa. Sono colpiti di sorpresa. Quindi noi abbiamo due turni prima che loro attacchino. Facciamo subito un bel dazzling light sul loro backliner. 1-3 danni. E' meglio illumination. Meno 20% al dodge. Luce a dodge 13. Lo togliamo tutto. Ci piace. Quindi rimuoviamo tutto il dodge da questo mob. Quindi da 13 di dodge andrà a 0. In modo tale che il nostro highway main possa poi dopo completare la kill in teoria. Vediamo se ci riusciamo. Sono 3 danni. Aumenta la luce. Debuff. Meno 20 dodge. Il dodge chiaramente va a 0. Il gioco è fatto bene. Per questo che il gioco, nel senso, ci ha giocato molta gente. Il gioco è fatto bene. È chiaro che se lo giocate a cazzo di cane, senza capire cosa fanno le varie skill, il gioco non è altrettanto bello. Ma se capite effettivamente come si incastrano le skill e quello che fanno, capite a cosa serve il dodge, a cosa serve lo speed, eccetera, eccetera, eccetera. Allora il gioco diventa particolarmente piacevole. Noi vogliamo blightare il backliner. Questo è pericoloso. Sono 4 danni. Vogliamo chiudere qua il link. Quindi rimane a 2 HP. Si prenderà il dot. Noi adesso possiamo mostrare il conto del persiano. Noi dovete capire che il conto dal persiano è stato salato. Quando siamo andati, Jordi ha dovuto pagare 25 euro per un primo. Raga, è lì, c'è rimasto sotto. Non era contento. Quindi come ho detto, il Crusader ha questa abilità. La sua abilità è, mostra il conto. Qua c'è scritto che devi pagare una gambe 20, bastardo. Mo' devi pagare è merda, hai capito? Qua c'è scritto che tu sei un uomo di merda. Te e il tuo amico, Strunz. Quindi noi prendiamo e giochiamo Zellos Accusation. Accurasi base 85. Modificazione al danno, meno 40%, però attacca entrambi i personaggi. Eccolo qua. Era salato, eh, bastardo. RAND OF THE OLD GODS DOTTA Questo fa male, mentre il critico toglie metà HP alla nostra vestale. Non bene, perché comunque il loro DPS ci ha fatto male assai. Possiamo fare un NOSCUS BLAST Questo verrà killato a breve. Mi piace qua. Ancora. Stacca il bleed. Due danni per tre round. Anche finito Link, il DOT resta. Noi vogliamo fare una kill. Questo è pericoloso, devo ancora attaccare. Va bene. Dobbiamo mettere una cura. Uh, baby! Due di danno. Chiudiamo Link. No, Black Doctor è molto forte. Abbiamo due chiavi. E quindi noi possiamo prendere e utilizzare la chiavetta qua. La chiave sblocca un compartimento nascosto che ci dà praticamente qualche extra loot che prendiamo più che volentieri. Abbiamo finito la stanza, scoutiamo. Benissimo, molto bravi. Vediamo una trappola, due trappole. Uh! Battle with Curio. Ci piace Battle with Curio. Va bene, torniamo indietro. Dobbiamo mangiare. Tutto il party deve mangiare. Se il party non mangia, aumenta il loro stress. Prendono un po' di cura. Quando il tank mangia, prende due HP. Gli altri personaggi, che sono ibridi o light tank, ne prendono uno solo. Molto bene. Se non abbiamo cure, possiamo utilizzare il cibo come forma di il intracombattimento. Andiamo di qua. Vedete che sulla mappa c'è indicato un sacco di grano. Ecco, lui è cleptomane. E si ruba la roba. Un'acqua sante, 250 gold. Beh, grazie. Bravo. Bravo. Tu sei il primo che taglio dal team. Pezzo di... Ne dite. Ma com'è sto gioco? Giocano da solo. Quindi qua c'è un combattimento. Va bene. Stanno andando abbastanza bene la run. Doppio DPS. Doppio DPS... Non bene. Non bene. Va bene. Proviamoci. Proviamoci. Va bene. Proviamoci. No! Ti mostro il conto del persiano. Va bene. Noi andiamo a ricorrere al... Andiamo a proteggerci. Andiamo a stunnare uno dei loro DPS dopo il miss del tank che avrei dovuto killare entrambi perché aveva il 25% extra al danno. Stugniamo. Prende danno. Bravissimo. Molto bravo. Molto bene. Molto bravo. Molto bravo. Molto bene. Mostra il conto del persiano. E non ti far pregare qua. E... Dai cazzo! Brava. Morto. Stacca il buff. Più 50% più 6 speed. Buono il critico. Dobbiamo piazzare un'altra curetta. Adesso non devi attaccare tu, strunza. Bravissimo. Quindi praticamente cosa faccio? Prolungo link per... Per far cosa? Prolungo link per provare a curare, a staccare i critici. Avete capito cosa ho fatto? Abbiamo questo curio. Questo curio si attiva con l'acqua santa. Questo curio si attiva con l'acqua santa. Ci cura lo stress di 20. E ci cura gli HP di 12. Noi siamo a 17 su 24. Abbiamo 28 di stress. La faremo toccare a lei. Metteremo l'acqua santa. Divine benefit. 12 di cura. 20 di stress curata. Torna a 8. La run è quasi perfetta. È tutto un meccanismo che funziona. Trappola. E la facciamo disarmare da lui. Che ha la chance più alta. Disarma. Abbassa stress. Tutto un meccanismo che funziona. È figo il gioco? Sto giocando io che sembra facile. Dici ma è facile il suo gioco. Ancora che mi rubi la roba. C'hai rotti i coglioni però eh. Eh sì. Sono 250 gold più vari heirlooms. Ok va bene. Accendiamo un po' la torcia che era bassa. Andiamo avanti. Trappola. Devono mangiare. Mangiano. Torcia. Ne abbiamo ancora tre. In questa stanza non sappiamo cosa ci sia. Entriamo. Vediamo Link come va. Finito. Scouting. Vediamo se c'è qualcos'altro. C'è un muro. E un ultimo combattimento. Continuo adventuring. E adesso devo ragionare su se voglio fare l'ultimo combattimento. Per degli extra gold. Ma in teoria la run è andata molto bene. Sotanto 10 di stress. 8 di stress. 15 di stress. La cautela non è mai troppa in questo gioco. Non bisogna mai overestendersi. Perché? Perché basta un singolo critico per mandare a puttane tutto. Quindi è meglio prendere e cliccare end quest. No veramente bisogna essere molto. Molto. Molto safe. Quando si gioca a Darkest Dungeon. Purtroppo non abbiamo trovato i tanti heirlooms. Perché ci sono stati rubati dal tank. Finiamo. Salgono di livello. Di smass. No. Sono tutti livello 1. Loro vanno a 4 di 7. Di esperienza. Perché hanno fatto un'altra run. Ok. 4 di 7. Vedete che la barretta aumenta. Però loro prendono un tratto. Vediamo che tratto prendono. Dai che positivo. Dai che positivo. Dammelo positivo. Bravo. Più 15% danno nelle warrens. Insano. Obsessed with paranormal. Significa che quando incontrerà dei curio legati al paranormale. Li attiverà anche senza mio consenso. Torniamo in città. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.